Noi marinai lo chiamiamo l'artiglio. È un'isola. Quello è un luogo che mette i brividi. Buonasera e benvenuti a tutti. Sono il professor Cornelius. Al momento non sono in casa, perché così prevede l'esperimento per il quale vi ho invitato. E questo cos'è? È l'esatta riproduzione di questa villa. E quelli? Ci sono otto pedoni nel modellino. E noi siamo in otto. Guardate il suo pedone. Si muove in tempo reale. Chiunque stia manovrando i pedoni, sicuramente ci sta guardando. E invece? Tutti i movimenti sono già previsti nel meccanismo. Noi, qui, siamo delle cabbie. Questo non è un esperimento. È una trappola mortale. Ti sei mai chiesto perché il pedone muove solo in avanti? Otto pedoni affrontano una regina. Il meccanismo sembra bloccato. Il tuo piano l'ha mandato in stallo. Forse vuol farci credere di essere in stallo. È tutta una forza questa! State facendo un esperimento su di me! Gioca con noi, come il gatto col topo. Aprite, per l'amor del cielo! Stavo andando qui il brazzo! Una macchina programmata per colpire in un determinato luogo. In un determinato momento. Grazie a tutti!